Ciao bellissimi, sono Crax, bentornati su Clash Royale, bellissima la nuova schermata di caricamento, ma probabilmente è una delle poche cose belle di quest'ultimo aggiornamento. Come sempre vi chiedo 5.000 like totalmente gratis per altri video di Clash Royale, iscrivetevi e campanella codice Crax alla fine dello shop se volete shoppare il nuovo pass, tutto quello che è shoppabile, gli standardi eccetera, inseritelo prima. Che cosa andremo a fare oggi? Le primissime partite di Crax nella nuova ladder, forse l'unica cosa positiva all'interno di questo aggiornamento che fa acqua da tutte le parti, tutto totalmente sbagliato, si evassa, negozio stagionale, tutto, cioè non c'è nulla che funziona, le ricompense, un disastro totale. In realtà, all'interno di questa modalità ci sono comunque tre cose negative che vi dirò durante il corso del video. Detto ciò, ho il moltiplicatore per 10, questa sarà una stagione molto particolare, totalmente diversa dal Clash Royale che abbiamo conosciuto dal 2016 a questa parte, si gioca in modalità draft con tutte quante le carte cappate a livello 11. Prima cosa negativa, se fossi stato in Supercell e avessi veramente chiesto scuse e mi fossi reso conto di aver fatto un aggiornamento sbagliatissimo, almeno per questo mese metti sì le carte cappate a livello 11, ma dai a tutti la possibilità di averle tutte quante a livello 11 e tutte quante sbloccate, come se la ladder fosse a tutti gli effetti una sfida. Non so se ci avete presente, se entrate nelle sfide, dovete buildare un deck che vi dà tutte quante le carte, tutte quante livellate a livello 11. Almeno questo potranno farlo per rendere il tutto un pochino all'occhio degli spettatori, meno per tu skip, meno per tu win, quello che vi pare, eccetera, invece no. Comunque ciccio, ragazzi, sta spingendo alla grande, io sto registrando poco dopo l'aggiornamento, devo ancora partire, abbiamo il moltiplicatore, arrivare a campione credo sia abbastanza semplice perché sono state cambiate tutte quante le varie soglie, i gradini, eccetera. La prima cosa negativa, ve l'ho detta, ovvero che non tutti hanno le carte livello 11 e sbloccate, dipende dalle proprie collezioni. Scelgo per primo, quindi ecco la seconda cosa negativa di questa modalità, ovvero che chi sceglie per primo può andare a prendersi il proprio archetipo, la propria win condition, la propria zona di comfort. Mi sono scelto appunto il domatore subito, magari ci perdo pure perché non riesco a buildare bene il deck dietro. Questa qua è la seconda cosa negativa, che si toglie totalmente lo script, lo script non esiste più, che è una cosa positiva di questa modalità, al posto della classica scalata ladder con i deck e così via. Però un minimo di probabilità script comunque rimane, se prima lo script era palese 100%, qui abbiamo un 10% di script perché se parto per primo posso prendere delle carte che poi possono andare a discapito dell'avversario. Io direi di partire subito con il log, è abbastanza importante, dato che lui ha il gigante elettrico, mi serve qualcosa che possa fare danni importanti, prendo la queen. Potevo prendere anche la pirotecnica, quindi questa è la seconda cosa negativa. La terza cosa negativa è proprio questa, ovvero che ad ogni inizio partita bisogna aspettare almeno 30 secondi di scelta delle carte e bisogna buildare dei deck molto importanti per poter battere l'avversario. Seconda spell per noi, vado a prendere la fireball, mi serve una struttura difensiva, credo di mettere la tesla, quindi più o meno doppia spell e struttura l'abbiamo, adesso ci servono le carte di contorno. Potrebbe essere buona una skeleton armi, però certo contro il gigante elettrico ti devo dire, posso andare a prendere degli sgherretti, lo zappino per ciclare. Ovviamente inizia il grax questa nuova scalata con il 2.6, lo sceglierei io, boni, zappino, per velocizzare. Lui comunque doppia spell l'ha presa, potrei prendere il cerbi, che non è male. Mago di ghiaccio? Non lo so ragazzi, provo a fare qualcosa di molto matto. Mi manca un'ultima carta, vediamo che tipo di carte si prende. Lui ha valchiria, mini pecca e gigante elettrico, quindi un deck un pochino lento che si può gestire. Il log è molto buono per me perché ha preso la skeleton armi. Mi serve il tanchino, come tanchino vado col cavaliere, penso di aver buildato un deck abbastanza buono. Vediamo se riusciamo a vincere, direi di partire subito col domatore, che fede ne previ. Detto ciò, sicuramente è una modalità, per quanto mi riguarda, positiva. Ecco, avere le carte a livello 7 non c'ha senso ragazzi. Questo vi dimostra che tutti quanti possano accedere a questa modalità. Ma signori di supercell, l'avete fatto un disastro, fatelo un pochino meno disastroso, no? Cavaliere davanti, cerchiamo di spingere subito velocemente. La queen, credo che non ci siano problemi. Se riesco ad abilitarla addirittura, pulisco tutto e mi sa che faccio pure una hit a torre. Ragazzi, che aggiornamento ha fatto la supercell? Partita, credo, con un filetto di gas. Mi prendo al volo 10 posizioni. Spariamo subito, belli potenti. Qui è tutto da rivedere. Cioè, il bariletto all'otto. È vero che parliamo dei primissimi match, poi dopo sicuramente si assesterà con tutti quanti i player con le carte a livello 11. Se fosse stata una modalità stile sfida sarebbe stato ancora più divertente. Cioè, toglievi totalmente il pay to skip, facevi una modalità competitiva per tutti, dove, a prescindere dalla quantità di tempo regalata a Clash Royale, si poteva competere con un account praticamente maxato per questo mese. E invece? Questa è la reazione, Crax vi dice tutto. A bruciavelo, senza nessun filtro. Perché se ho fatto così, dagli domatore, sottotorre, l'importante per questa season è assolutamente arrivare alle medagliette. Se ci arriviamo, a noi va benerrimo. Prendiamo l'emoticon. Dopodiché vedremo la Supercell che cosa ci dirà per la prossima stagione. Comunque, primo match discretamente easy. L'avversario carte di livello 8, però è più che normale. La tesletta la metto sulla parte di destra. Ci sono tante cose positive per questa modalità. Il fatto che vai a togliere i soliti deck, togli lo script, eccetera. La possibilità di provare nuove carte che molto spesso non utilizziamo. La possibilità di capire il deck dell'avversario togliendo totalmente l'effetto sorpresa. Quindi, ciao nei Gran Cavalieri, le Cimitero, soliti deck che incontriamo sempre. Sicuramente ogni partita è una partita a sé. I pregi ce ne sono e come. Però non si può fare una roba del genere. Non so che se sono presi. Ma chiudiamo il discorso. L'abbiamo chiusa. Andiamo subito col secondo match. Adesso facciamo sul serio perché la prima è dei pollastri. Certo, se riusciamo a fare tre corone sarebbe meglio perché me ne chiudo con sei. Ma guarda che sfiga. Abbiamo preso una marea di ricompense. Molto bene. Prendo... Jolly Comuni non ci faccio niente. Sordi molto bene. Sordi molto bene. Jolly Rari non ci faccio niente. So comunque soldi. Next partita. Metto questo in unlock. E se plana. Ok, tutte carte di livello 11 scelgo di nuovo io. Non so se dipende dal moltiplicatore. Sapete, vedete, vado con una bella queen all'11. Se uno non ha tutte quante le carte sbloccate che te dà la X? Cioè ti fa vedere la carta che non puoi prenderla? Re degli scheletri contro la queen. Boni perché forse questo è un player buono. C'ha pure le skin. Voglio cambiare pure le mie skin che c'ho quelle festose. Devo mettere qualcosina di un po' più tattico. S'è preso il log. E il log non è brutta come carta perché l'antagonista del log è la snowball. Intanto prendo la snowpalla sennò poi rimango fuori con le spell quelle più leggere. Che tipo di deck vado a fare? Gigante royale, la strega, non lo so. Potrei prendere pure la tornado. Ma al momento vado col gigante royale e mi sento un pochino più confident. Poto prendere pure il golem. Non lo so. Ogni partita è a sé. Dipende dal player che abbiamo contro. Buona quella fulmine. Avrei preso la fulmine e me l'ha rubata. Però potrei prendere la tornado. Buono il cannone. GG per lui. Bombi tower come struttura difensiva. E ci metto come seconda spell per forza la tornado. Che non è meravigliosa ma contro il re degli scheletri posso comunque compattare e distruggere tutti quanti gli scheletrini. Considerate che non ha scelto le carte. Ti devo dire potrei pure fare tipo sparchi. Ma ve lo immaginate? Una sparchi tattica? Ah no c'è la fulmine. Cavolo non mi sono accorto che c'è la fulmine. Se non ci fosse stata la fulmine si poteva anche fare. Serve una carta che alleggerisca leggermente il deck. Provo. Non so quello che uscirà fuori come match. Cioè non si parte col domatore capito? Proprio siamo fuori dalla zona di comfort. Snubbull per ciclare. Abbiamo una queen che poi ci farà ciclare più velocemente il deck. La mettiamo sulla parte di sinistra. Lui non sta ok. Ha tirato il loghetto. Va bene. Spiritello della cura. Proviamo subito a spingere in maniera cattiva. Così che la queen possa fare i suoi danni. Il curatino purtroppo non cura. Qualche danno l'abbiamo fatto. Abbiamo tolto il cannone. Quello sicuramente si girerà. Quasi quasi. Bombi tower. Non credo abiliterà. Ma nel dubbio abbiamo discretamente difeso. Le prime partite sono abbastanza tranquille. Ed è positivo. Perché poi bisognerà spingere di brutto per la campione definitivo. Vado con scintilla sulla sinistra. Tanto lui ha fatto più danni sulla parte di destra. Il miner quasi quasi lo lascerei entrare. Preferirei coprire la sparchi e metterci un gigante royal davanti. Purtroppo non siamo in per due. Ma non so se riuscirò a metterlo davanti. Devi passare. Gigante royal sei più grande. Eh te pareva. Comunque la botta è arrivata. Il secondo colpo. Sicuramente non arriverà la snowball. Ha fatto una bella difesa. Ha fatto una bella difesa. Un'altra cosa positiva è che si fanno delle maestrie di carte. Che non avremmo mai pensato di utilizzare. E si va avanti. Però a discapito della maestria del deck principale. Che tornerà la settimana. La settimana. Il mese prossimo. Lui continua a fare danni. Giustamente mette il miner sulla destra. Perché così quella tornato non possa attirare la torre. E anche questo è dovuto al fatto che lui sa che tipo di deck sto utilizzando. Stavolta ci metto la queen da dietro. E se riesco vorrei mettere gigante royal. C'ho la snowball. C'ho la tornato. Riesco a fare qualche... Eh c'ho la fulmine. L'ha messa pure male la fulmine ti devo dire. Però mi ha risettato il colpo. Che mi invento? Guardi sulla parte di sinistra. Sparchi. No snowball. Non è semplice belli miei. Quella fulmine mi dà grossi problemi. Il draghetto infernale l'abbiamo tolto. Lui continua prepotentemente da quella parte con il miner. E se devo essere sincero sta facendo il suo gioco. A me servirebbe una big spell. Cosa che purtroppo non ho. Non ho neanche il curatino. Luce al log. Metto le guardie a destra. Sarebbe bello fare... E che mi invento regà? Qui mi ha counterato alla grande. Io l'ho giocata sicuramente male. Non riesco a muovermi. Soprattutto per il fatto che... Se il Grax adesso piazza un qualcosa a destra. Lui mi fulmina. Con il miner. Non ho beccato un player scarso. L'avete capito bene tutti quanti. Occhio a quel signorino lì. Cerco di snopallare. Con la tornata tolgo qualche scheletrino. Eh non so che fare regà. Non so che fare. Scintilla. Per fortuna il moltiplicatore non lo perdiamo. Ho sbagliato a prendere la win condition. La Sparky non devo prenderla assolutamente. Mi serviva qualcos'altro di molto più tattico. Però se parto da dietro con il Royal Giant. E poi dell'A? Che mi invento? Dell'A? Non posso fare niente. Perché il miner sicuramente danni li fa. Quello non so come fermarlo. Provo a tirarlo con la tornata. Ragazzi belli. Sconfitta al secondo match. Questa stagione sarà molto piuttosta dell'altra. Sarà un totale uscir fuori dalla propria zona di comfort next partita. Ne faccio un'altra. Come terzo match belli vi porto. Un match senza le scelte a video. Mi sono preso il gigante elettrico. C'era pure il domatore. L'ho sbaggato. Perché se no ovviamente mi dicevate. Grax sta e prende sempre il domatore. Non l'ho scelto. Fatemi sapere se vi sa meglio che Grax vi commenta ogni scelta. Il video è più lungo. Oppure andiamo direttamente al match. Poi dopo vi fa effetto sorpresa con gli avversari. Siete voi che dovete darmi dei consigli. Buona quell'abilità. Comunque il blonde lo lasciamo dietro. C'abbiamo il gigantone davanti. Potrei fare secondo me un good push. Perché lui ha la torre ragazzi. Cioè non so se è stata a vedere. Forse mi conviene addirittura. No non mi conviene tirare la fulmine. Ma forse mi conveniva perché facevo praticamente tutta quanta la torre. C'è la torre al 7. Ragazzi grosse lacune pure qui. In questa modalità che vedevo di belli miei. Qui è totalmente tutto da ristrutturare. Team di Supercell. Vi prego. Analizzate bene tutto quello che abbiamo detto. Nei commenti eccetera. Perché ho visto pure la pagina Twitter di Clash Royale. Devastate Reddit. Un disastro. Qui è tutto da ricalcolare. Qui è tutto da ricalcolare. Ma proprio palese tutto quanto. Arriva di nuovo. Potrei anche frizzarla con un super gigantone davanti. Lui probabilmente andrà in ability. Certo è un pochino tardi. Qui faccio un'abilità molto tattica. Grax potevo gestirla molto meglio. Occhio Grax perché quella qui ne fa male. Devo capire come difendere bene. Lui sicuramente mi darà problemi con la torre bombi. Nel senso se abilito. Ma come a me non dascia. Ma com'è possibile. Non è neanche ancora stato nerfato credo. Non so se è uscito l'aggiornamento del bilanciamento. Non lo so. Non ha dasciato. Ma stava lì. Il miner doveva fare la tripletta. A me lo fa sempre maialini al 9. Si salvi chi può. Buone quelle frecce. Ottime. Quindi il player sa pure giocare. Se fosse stato un player con tutte quante le carte livellate all'11 mi avrebbe dato molti ma molti più problemi. Qui la fulmine ci sta di brutto. Peccato per la torre che poteva andare un pochino meglio per il sottoscritto. L'abilità è discreta. Potevo tasciare meglio. Comunque andiamo sotto la torre. Basterebbe anche semplicemente una zap. Goblin sulla parte di sinistra. Ragazzi dobbiamo andare un pochino più avanti per fare delle partite più decenti sia per quanto riguarda le scelte. Ma dobbiamo prenderci anche di brutto la mano perché non è detto che Grax è a callare. Vedete? Cioè qui bisogna saper giocare. Belli miei saper giocare. Cosa che Grax non sa fare. Il domatore sì lo gioco benino. Il resto vi devo dire. Vi chiedo un like. È totalmente gratis. Iscrivetevi e campanella è totalmente gratis. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova scalata. Le cose negative Grax ve le ha dette. Prende al volo l'oro. Abbiamo altri gradini gold. Si può salire ma poi con calma faremo. Like, iscrizione, campanella, codici Grax alla fine dello shop. Un bacio. Ciao belli, ciao ciao.